La SF1000 è la quinta forza in griglia per il momento. Attualmente infatti ci sono almeno quattro scuderie che gli danno paga, Mercedes, Red Bull, McLaren e Racing Point, anche se la Renault non è da meno. Mancano le prestazioni, manca l'affidabilità, manca addirittura la fiducia nei piloti. Ragazzi, a Sebastian non gliene può fregare di meno di sviluppare la macchina per il 2021, in quanto lo hanno cacciato a forza non rinomandogli il contratto. E dopo aver firmato per l'Aston Martin, attualmente Racing Point, lui sta solo contando i gran premi che lo separano alla fine della stagione. Che la Ferrari torna competitiva o meno nel 2021 a lui non fa la differenza, anzi la fa in quanto potrebbe arrivare davanti se migliorasse. Perciò se Vettel non si impegna a sviluppare la macchina lì dentro, chi deve farlo? Ditemi, Leclerc? Sicuramente dà il suo contributo allo sviluppo, però se c'è qualcuno con un briciolo di esperienza per poter trasformare la macchina da scadente a vincente, quello è Sebastian. Quella che sembra essere la più grande lacuna della SF1000 è il motore. Binotto ha detto che quest'inverno si sono concentrati di più sul dare più migliorie all'aerodinamica che al motore. E ciò ha sicuramente portato i suoi vantaggi, in quanto la Ferrari oggi è tra le migliori per ciò che riguarda le velocità in curva. Sta di fatto che a parità di motore si stanno avvicinando alla Ferrari anche le macchine clienti, Alfa Romeo e AS, il che è tutto dire. Alla Ferrari mancano più o meno 10 km orari in rettilineo e ciò porta a delle grandi difficoltà più o meno ovunque, ma soprattutto in piste formate da lunghi rettilinei, Spa, Monza, Mugello, Russia, Catalonia. Piste dove quest'anno sia Vettel che Leclerc hanno fatto ridere, spesso senza nemmeno riuscire ad arrivare a punti. E prendendo paga molto spesso anche dal Williams e AS, macchine completamente scadenti. C'è chi dà la colpa a Binotto, c'è chi dà la colpa ai vertici. Io personalmente penso che non sia colpa di nessuno, che la SF1000 è una macchina nata male e che dobbiamo conviverci per quest'anno. Però attenzione, conviverci non significa rassegnarsi e dire ci vediamo nel 2022 e andiamo in vacanza. No, perché è ciò che sta facendo la Ferrari. La macchina sì è nata male, ma è anche stata abbandonata. Non hanno rilasciato un aggiornamento per tutta la stagione fino a qua. Con la scusa che la fabbrica è impegnata completamente sullo sviluppo per il 2022. Io dico una cosa, al 2022 manca ancora una stagione e mezzo e in questo lasso di tempo la gente si può stancare. Poi che non si meraviglino se in tutti i circuiti il rosso non ci sarà, ma ci saranno soltanto cappellini e bandierine argentate e blu. Che non si lamentino che a Monza non ci sarà alcun tifoso ferrarista. Lo stesso per il Mugello e Imola se resteranno ancora nel calendario ovviamente. Dico un'ultima cosa prima di concludere il video. Da quando il team principale è lui abbiamo smesso di lottarci il mondiale nel 2019, cosa che invece facevamo con lui. E quest'anno addirittura fatichiamo per andare a punti. Se hanno bloccato lo sviluppo nel 2021 che cosa vedremo? Invito i vertici della scuderia Ferrari a fare una lunga riflessione su ciò.